Ossigeno puro per il Campobasso che batte nettamente il Chieti, cenerentola del girone F capace, solo di tanta grinta ma mai di calciare verso la porta molisana, si gioca di fronte a 350 spettatori, la partita è interdetta ai tifosi abruzzesi. Nel Campobasso fuori Meduri e De Matteis in aggiunta al tecnico Novelli, tutti squalificati, in panchina è D'Agostino a guidare i suoi verso la quinta vittoria stagionale. Al quinto in prota lavora bene un pallone, solo tanta sfortuna, manca il rumore del palo, gli nega il gol del vantaggio, D'Agostino riabilita tra i pali, Palumbo inserisce Tini come vertice basso, torna Grazioso che gioca da mezzala, confermato l'attacco con in prota Fioretti e Gulin al diciassetesimo, lo stesso in prota carica il destro, il portiere Ronchi lascia uscire il pallone sul fondo, invitante la posizione del piazzato di Voltasio al ventesimo, bloccato così dall'estremo dei teatini, è un forcing costante di marca locale, al ventunesimo cross di Chimpala, testa non precisa di Gulin, la riprende Voltasio, intercetta Tuccia che rischia tantissimo il gol nella propria porta, rosso-blu produttori di un gran numero di palle gol ma non assistiti anche da quel giusto pizzico di fortuna, al ventiseiesimo Grazioso arma il sinistro molto apprezzabile, stavolta è traversa, poi gol di testa di Fioretti annullato per posizione di fuorigioco, secondo le proteste locali, il pallone avrebbe superato la linea al momento del tiro di Grazioso, sfortuna dunque ma anche approssimazione Campobassano al 34esimo quando Gulin va a pescare benissimo Fioretti lanciato a rete ma maldestro nell'allungarsi la palla, Selvapiana accompagna il tutto con un boato di disapprovazione, tutti al riposo, dopo un minuto di recupero l'allenatore ospite Mariani fa entrare Gallo in luogo di Genovese dal primo della ripresa, D'Agostino estromette Grazioso per inserire Germano all'ottavo, qualche secondo più tardi c'è il cross di Corbo spinta Galeotta di Capuani a Fioretti nel cuore dell'area di rigore e la signora Panettella decide così per il penalty per i locali che in prota va a trasformare con tanto di intuizione del portiere del Chieti, finalmente il Campobasso riesce a sbloccare il punteggio intorno al quarto d'ora tutto l'orgoglio teatino in questa incursione a destra di Faella sventata in angolo da D'Angelo, atteggiamento mentale forse sbagliato dal Campobasso che probabilmente in questa fase precisa si adagia sull'1-0 di rigore, al 22esimo punizione di Improta davvero al veleno va a scheggiare l'esterno del palo, qualche secondo più tardi iniziativa di Gulin, ecco il tiro su cui c'è la risposta in angolo di Ronchi, al 28esimo punizione di Voltasio dopo un liscio difensivo abruzzese, ecco l'inzuccata di testa di D'Angelo, palla contro il palo e gol del raddoppio Campobassano, esultanza contenuta del difensore di casa che ha da fare una dedica con maia e scritta, Peppe uno di noi, partita chiusa, ultimi spiragli teatini al 31esimo sugli sviluppi di un corner, svetta Fusaroli e presa di Palumbo, un minuto più tardi, cross di Corbo, altri lisci ospiti e testa finale di Improta a lato, i rosso-blu arrotondano il punteggio, al 42esimo cross di Fioretti, la palla guarda tutta la luce della porta prima di essere girata in rete da Germano Filo, gol di Buonafattura e Triss di casa, tre presenze e due gol per il brasiliano del Campobasso, subito dopo D'Agostino e stromette Esposito e Gulin per inserire Torvic e D'Aversa, il molisano D'Aversa da poco entrato sfiora il poker con un tiro che esce davvero di un soffio a lato, il Campobasso rispetta il pronostico di giornata per il Chieti, prosegue il calvario che sembra senza uscita per il rosso-blu a Matelica, si annuncia una sfida difficile ma non impossibile, soprattutto alla luce dei risultati dell'ultimo turno.